Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo canale, io sono Animali Channel New Oggi vi faccio vedere il mio acquario più l'attrezzatura Questo video sarà un po' più breve Vi vorrò vedere un pesce pulitore Poi un pesce bulldogo perché lo chiamerò io così Poi un pesce albino, pesce rosso 5 e 4 pesci rossi uguali 2 hanno un anno, questo qua e questo qua 2 black moore, questo e questo e un gometa L'attrezzatura che mi hanno regalato con questo acquario è la luce led Poi il riscaldatore, un attimino questo qua Poi qua dentro ci sono i cilindretti che si cambieranno ogni anno Dopo ogni anni E poi questo che lo cambierò ogni mese quando sarà con il pupù E poi questo con le pietre Io poi farò l'aggiornamento dei pesci Forse forse domani se vado Forse forse se vado in giro Comprerò forse qualche pesce Questo sarà il mangiare per i pesci cavro Alcuna volta glielo do E poi ci ho messo questi qua Questi li do ogni volta E niente Questi pesci ogni volta che Quando avrò i nuovi pesci Mi sto coimbappinando tutto Questi pesci quando avrò i nuovi pesci li metterò qua dentro E poi c'è un rettino Quello piccolo E niente questo video deve finire qui perché Devo andare a pranzare E niente Con tutti i pesci più l'attrezzatura Vabbè dai Con tutti i pesci Adios